Poi abbiamo preparato lo sciopero del primo marzo, che ce n'era già stato qualcuno anche d'altra parte. Io ero in quel comitato lì dove abbiamo organizzato lo sciopero, già ci siamo riuniti per diverse volte. Alla sera l'abbiamo fatta l'ultima riunione in casa mia. Mio padre e lui erano d'accordo e abbiamo fatto la riunione, ci siamo designati i posti. Noi, io e l'Alberta eravamo d'accordo al mattino presto, già avevamo dato tutti i volantini, ma al mattino presto siamo partiti ad andare al Montecavolo e ci siamo fermati in tutte le case di contadini che erano là, che mongevano le mucche, a dirle, vi ricordate che ce lo sciopero dopo quando avete portato il latte al caseificio, dopo non andate nei campi e venite al sciopero, va bene, ci siamo d'accordo. E ci siamo trovati, lo sciopero è riuscito bene, i contadini, perché a Montecavolo molti erano dei contadini, però contadini e anche operai, quelli che erano dei nostri, hanno scioperato. E lo sciopero a Montecavolo è riuscito. Quanto cos'era lo sciopero? Contro la guerra, contro tutto quello che ci facevano, contro la fame, anche perché noi avevamo anche fame, ci prendevano tutto. All'ammascio ci portava il frumento, tutte le cose, i contadini portavano il vino, l'uva, tutto. Ci prendevano tutto, ecco perché dopo sono stati fatti delle azioni anche, che ci sono stati delle volte anche dei morti, per andare in questi ammassi a prendere tutta la roba che loro avevano preso a tutti noi. Ho detto tante volte che il primo marzo mio padre al mattino mi ha detto sì, Lidia, fai bene a fare questo, perché è una cosa importante, però pensa che da oggi la tua vita cambia. Ma io questo non lo pensavo al mattino alle sette, che a mezzogiorno la mia vita cambiava. Allora la mia vita è cambiata, sono diventata più responsabile. Mi sentivo responsabile anche prima, perché già nelle mie cose che avevo fatto mi sentivo responsabile anche prima. Però dopo ho avuto un'esperienza diversa, le responsabilità diverse. È cambiato un po' tutto, insomma. Ero sempre Lidia, ma diciamo che ho avuto una bella esperienza e mi sono sentita forse anche un po' orgogliosa di averlo fatto. È arrivata una corriera che veniva giù da San Polo, da quelle parti là, e abbiamo fermata perché le abbiamo detto che c'era il sciopero, che dovevano tornare indietro, e sopra c'erano dei militi. Allora li abbiamo fatti scendere, li abbiamo disarmati, loro ci hanno dato le armi senza opporsi, e poi non sono tornati sulla corriera, si sono infilati a piedi, forse andare verso casa a piedi. Da questo non era successo niente, dopo è venuto fuori da una casa, lì lungo una via, noi eravamo nella strada principale, lì dalla piazza, con lo sciopero, con i nostri manifesti, eccetera, è venuto fuori un fascista, che era sfollato a Montecavoli. Con il Mitra ha incominciato a sparare, diciamo, subito, secondo me, per Arien, insomma, e aveva il Mitra, e in più, secondo me, aveva anche una rivoltella, penso. E allora c'eravamo in tanti, e molti li sono andati di dietro, poi siamo riusciti a disarmarlo e a fermarlo. Qualcuno le ha dato anche un qualche scapolotto, forse, però non è che le abbiano fatto del male da... diciamo, non è che qualcuno abbia fatto delle cose per dire lo ammazziamo, cioè, l'abbiamo solo disarmato, e qualcuno le può aver dato anche un caccio. Comunque tutto è andato bene così. E poi lo siopero è finito, noi abbiamo tenuto le armi, e che quelle poi le abbiamo andate in montagna, e poi abbiamo sciolto. Abbiamo sciolto lo siopero, dopo mezz'ora, a Montecavolo, che era mezzogiorno, c'era già il coperfuoco, la gente non poteva più venire fuori di casa, noi ciclette eravamo già, perché da Scampate a Montecavolo ci saranno tre chilometri, non so, quattro, noi eravamo già arrivati a casa, perché eravamo in bicicletta.